Exo Rattics, oggi siamo qua per presentarvi uno dei nostri ultimi arrivi. Si tratta di una bellissima Mercedes-Benz E200. Possiamo vedere anche la presenza dei cerchi in lega, da 17 diamantati montati su pneumatico estivo. Parlando anche di lunghezzi, si tratta di un'autovettura lunga, 4,92 m, alta 1,47 m e l'alta 1,85 m. Passati invece nel lato posto e ore dell'autovettura, possiamo vedere come assistenza al parcheggio la presenza dei sensori di parcheggio posteriori. E all'interno invece dell'abitacolo, possiamo invece vedere una capienza del bagagliaio di 545 litri, abbattibili fino a 1.470 m. E qua sotto abbiamo un po' la presenza del doppio fondo con la predisposizione per il rutino di scorta. Passati invece all'interno dell'abitacolo, possiamo vedere gli interni che sono completamente in pelle, con solamente lo schienale d'appoggio in tessuto. E la presenza dell'attaccatura Isofix sui lati laterali. Passati invece all'interno, nella parte anteriore, possiamo vedere anche qua il volante completamente in pelle, con tutti i comandi radio bluetooth, i sensori luci e i sensori pioggia. La regolazione del sedile che è completamente elettrica, accensione K-less e possiamo vedere anche la presenza del pacchetto LED all'interno dell'abitacolo. Si tratta di un'autovettura disponibile con il cambio automatico che si comanda direttamente dalla palettina dietro il volante e può diventare sequenziale con le palettine qua dietro. Abbiamo inoltre anche tutto quanto il sistema dell'infotainment, tutto quanto digitale. Questa autovettura si tratta di un'autovettura usata, immatricolata febbraio 2018 con solamente 25.000 km l'attivo. Ha già superato i 100 punti di controllo dei nostri automonti expert e disponibile online su nostro sito ratix.com. Ciao! Ciao!